Allora queste qua sono le lettere che Marisa ha ricevuto tra mercoledì e giovedì, perché venerdì arrivava mia. No sabato, sabato non arrivava, giovedì e venerdì, giovedì e venerdì. Ecco, volevamo farvi vedere il pacco di lettere che sono arrivate per la Marisa, cioè queste giove, tutte queste, e queste venerdì. E facciamo vedere l'indirizzo, gentile signora Marisa, quella di Radio 3i 6774 d'Alpe. Per Marisa, quella di Radio 3i, cioè questo è tanto per dirvi le lettere, tra l'altro vediamo anche la roba qui, eh. Però io non voglio vedere niente perché poi le leggiamo in diretta, ma ti sei contenta di questa idea? Ma sì, perché no, dai, metti questo. Ci sta, no? Però hai confuso un po' di partiti l'altro giorno. Però mi sono salvata in corner, vota bene, vota male. No, no, dici questo magari, no? Le suoi scrivete tra l'altro da voi. Ah, c'è scritto? C'è scritto da qualche parte una signora che da Dreda ha scritto il suo... Ma adesso il problema nostro qual è? È che non sappiamo se riusciremo ad adempiere tutti i nostri doveri. No. Mi hanno ammigia la roba qui. Poi mi ha finito, è che mi ha dato la parte dell'altro. Ah no, queste sono, attenzione, queste lettere, queste, che saranno una sessantina, sono gli ultimi due giorni. Gli ultimi due giorni. Le vie 60. Gli ultimi due giorni. Gli ultimi due giorni. Gli ultimi due giorni. Gli ultimi due giorni. Ciao.